Buongiorno a tutti, sono lieto di informarvi che sabato 13 aprile 2024 avrà luogo il decimo congresso Simit Day. La sede è molto particolare, è la Porsche Experience Center Franciacorta in provincia di Brescia e vede riuniti i numerosi speaker di fama internazionale, primo fra tutti il dottor José Ranguren e poi Davide Castro, Massimo Giovarruscio, Fabio Gorni, Nicola Grande, Claudio Pisacane, Filippo Sant'Arcangelo, Riccardo Tonini e il sottoscritto. È un'occasione da non perdere, verranno illustrate le ultimissime novità in campo endodontico e spero di vedervi numerosi. Arrivederci a presto.